buongiorno cari amici del mio cuore siamo tornati con la nostra umile lettura del vangelo secondo lo spiritismo un libro scritto da alan kardec e gli spiriti oggi pregheremo per il ventiduesimo nome di dio la giustizia di dio mi adatto signore questo è difficile di parlare la consapevolezza dell'unità del tuo regno e la visione di come sarà la vita quando le voci degli istinti troveranno il loro ordinato silenzio per mi permettimi signor iei ale che questa conoscenza conoscenza interiore possa essere espressa attraverso il mio comportamento che la tua idea si cristallizzi nei miei muscoli e nel mio sangue e che i miei gesti possano parlare più forti meglio delle parole e in quel viaggio verso il tuo splendido futuro proteggimi signore iei ale dal pericolo di naufragio da questa catastrofe che sempre si avvicina all'uomo quando la sua anima si distacca dall'eterno per adorare la sua personalità fugace immortale liberami signore iei aiel dall'errore che narciso ha commesso e che quando intravedo il mio riflesso nel specchio faccio scoprire ai miei occhi te che a mia immagine ti vedono a me ebbene oggi rifletteremo su queste domande chi è l'altro consolatore che gesù ha promesso e chi avrebbe mandato e un'altra domanda come puoi essere felice di soffrire se non sai perché soffri e bene andiamo a legge promessa di un consolatore se mi amate osservate i miei comandamenti ed io pregherò il padre che vi darà un altro consolatore perché resti con voi per sempre lo spirito di verità che il mio che io il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce ma voi lo conoscete perché abita con voi e sarà in voi ma il consolatore lo spirito santo che il padre vi manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi farà ricordare tutto quello che io vi ho detto questo sta scritto a san giovanni capitolo 14 versetti 15 16 17 e 26 allora gesù promette un altro consolatore è lo spirito di verità che il mondo non conosce ancora perché non è maturo per comprenderlo che il padre invierà per insegnare ogni cosa e per ricordare ciò che dio che cristo ha detto se dunque lo spirito di verità deve venire inseguito ad insegnare ogni cosa vuol dire che cristo non ha detto tutto se viene per ricordare ciò che cristo ha detto significa che sarà stato dimenticato o mal capito lo spiritismo giunge al tempo segnato per realizzare la promessa di cristo lo spirito di verità presiede alla sua manifestazione richiama richiama gli uomini all'osservanza della legge insegna ogni cosa facendo comprendere ciò che cristo non ha non ha esposto che per parabole cristo ha detto chi ha orecchie per udire comprenda lo spiritismo si presenta per aprire gli occhi e le orecchi perché parla senza simboli e senza allegorie solleva i veli che sono stati lasciati con intenzioni su certi misteri viene a recare una consolazione suprema ai diseredati della terra e a tutti coloro che soffrono rivelando una causa giusta ed uno scopo utile a tutti i dolori cristo ha detto beati gli afflitti perché saranno consolati ma come sentirsi sentirsi felici di soffrire se non si sa perché si soffre lo spiritismo mette in luce le cause delle cause che si trovano le nelle esistenze precedenti e nella destinazione della terra in cui l'uomo espia il suo passato ne indica lo scopo dimostrando che le sofferenze sono come le crisi salutari che conducono alla guarigione e che sono la purificazione della che assicura la felicità nelle esistenze future l'uomo comprende che ha meritato di soffrire e trova giusta la sofferenza sa che essa contribuirà al suo progresso e l'accetta senza lagnarsi come l'operario accetta il lavoro che gli farà guadagnare il suo salario lo spiritismo dà all'uomo una fede incrolabile nell'avenire e il dubbio straziante non ha più presa sulla sua anima mostrandogli le cose dall'alto fa sì che le vicissitudini terreni perdono la loro importanza nel vasto e splendido orizzonte che esso abbraccia e la prospettiva della felicità che lo attende gli dà la pazienza a rassegnazioni ed il coraggio di andare fino al termine del suo cammino così lo spiritismo realizza ciò che gesù ha detto del consolatore promesso conoscenza conoscenza delle cose che fa sì che l'uomo sappia da dove viene dove va e perché è sulla terra richiamo ai veri principi della legge di dio e consolazione attraverso la fede e la e la speranza e bene abbiamo terminato la nostra lettura di oggi spero che ci sia piaciuto tanto quanto a me dio vi benedica a tutti baci ciao